È sempre bello vedere un team di sviluppo italiano consolidarsi sulla scena globale come successo a Stormind Games, una squadra di sviluppatori con quartier generale in Sicilia che ha catturato l'attenzione degli appassionati di horror con Remotored Torment Fathers. Grazie a un evento in streaming abbiamo potuto dare un'occhiata al gameplay della loro ultima opera, Remotored Broken Porcelain, scoprendo tante nuove informazioni interessanti. La trama del nuovo Remotored è alquanto atipica, nonostante le premesse da horror classico. La protagonista è una ragazzina di nome Jennifer che lavora in un hotel chiamato Hushman Inn. Durante la demo la si trova appesa in una cella frigorifera alle prese con il proprietario dell'edificio in preda a chissà quale mania omicida e costretta a fuggire da tutti i presenti, a loro volta posseduti e sfigurati da una non meglio precisata entità. Cosa o chi abbia scatenato questa orribile catena di eventi non è dato saperlo, ma è chiaro che il piano della povera Jennifer è la fuga. Un'operazione tutt'altro che facile da portare a termine quando ci si ritrova in un hotel circondato da una tempesta di neve e l'unico desiderio dello staff sembra essere quello di farti a pezzi. Nonostante alcuni nomi ricorrenti, Broken Porcelain non sembra però essere un prequel né un sequel di Torment Fathers, ma sì qualcosa di differente. La narrativa, quindi, potrebbe prendere pieghe inaspettate e molto diverse da quelle del remote art originale, anche se questo non significa che il titolo sia totalmente privo di costanti. Il grosso del gameplay sembra infatti ancora incentrato su stealth ed esplorazione, con Jennifer impegnata a muoversi silenziosamente tra le sezioni dell'edificio per scoprire cosa stia accadendo senza attrarre eccessivamente l'attenzione. Sono però state aggiunte numerose meccaniche assolutamente necessarie per contrastare le nuove minacce. Jennifer, ad esempio, può sfruttare un sistema di coperture per nascondersi più efficacemente e persino stordire momentaneamente i suoi cacciatori, chiamati Stalker, attaccandoli con strumenti di fortuna. Le meccaniche extra però non finiscono qui e arrivano addirittura a modificare sensibilmente l'intero sistema di movimento, rendendolo nettamente più fluido e funzionale. L'elemento survival, legato alla raccolta di materiali e alla costruzione di armi improvvisate, appare basilare ma stuzzicante. Molto più centrale è invece la rinnovata agilità della protagonista, che può sfondare porte, scivolare rapidamente, saltare gli ostacoli e strisciare sotto i tavoli. Durante la normale esplorazione queste manovre non sono particolarmente necessarie, se però si attiva un gruppo di inseguitori, il pericolo diventa superiore a quanto visto in Torment Fathers e il loro controllo sulle varie aree risulterebbe davvero difficile da arginare senza un po' di mobilità extra. Jennifer può poi sfruttare il Moth Eye, un potere speciale che le permette di prendere il controllo di una falena e di osservare cosa si nasconde al di là di una porta chiusa. È una novità molto utile, che garantisce di affrontare le varie zone con un po' di strategia. Remothered Broken Porcelain sembra insomma voler riproporre quanto di buono era stato fatto con Torment Fathers, ma correggendo i problemi di ritmo del predecessore grazie a meccaniche di movimento più complesse e a minacce in generale più pericolose a cui far fronte. In più siamo davvero curiosi di vedere fino a che punto gli Stormine Games avranno saputo sfruttare le nuove meccaniche, visto che per ora abbiamo avuto a che fare solo con gli stalker e con l'iconica suora rossa che è apparsa per qualche istante, ma ci è apparsa nettamente più pericolosa degli altri inseguitori. Il potenziale per un horror di alta qualità c'è tutto e non resta che attendere l'uscita prevista nel corso del 2020 su PlayStation 4, PC, Xbox One e Switch. E voi cosa ne pensate dell'opera di Stormine Games? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.